one live maestro piscopo buongiorno 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 monti quando ritardo a pubblicare il nostro video settimanale inizio a ricevere messaggi che all'inizio sono di curiosità ma quando carichi video e poi sono minacciosi allora non c'è ancora il video e poi arrivano vogliamo piscopo mi stai per caso dicendo che abbiamo creato dipendenza abbiamo creato dipendenza i prossimi video dovrei mettere il bollino da consumare con moderazione esatto è così senti pier dicevi che è un bel periodo questo per gli scacchi perché diciamo che la primavera primavera estate e tradizionalmente il periodo più caldo ci sono tutti i vari eventi a livello nazionale per esempio ci sarà in italia in maggio il campionato italiano rapid che è un campionato molto molto partecipato molto sentito rapid lampo eccetera le cadenze veloci poi ci sarà in ancora prima in aprile ci sarà il campionato a squadre la finale master alla quale parteciperò anch'io con la con la mia squadra che è il napoli diciamola la scacchistica partenopea ed è il torneo proprio è il vero campionato nazionale è chiaro che c'è anche il campionato nazionale individuale in cui giocano i migliori dodici del paese ma il campionato a squadre è visto proprio no perché poi la squadra che vince partecipa alla coppa dei campioni quindi proprio un torneo molto sentito e ci sono tutte le serie per così dire minori che portano a qualificarsi alla master che vengono giocate in precedenza adesso questo weekend per esempio il weekend in cui tutta italia gioca squadre e poi c'è la master che questo evento master sia maschile che femminile l'evento conclusivo in cui ci sono tutte le squadre più importanti poi si farà sempre ad aprile in italia in sardegna il più grande torneo open mai organizzato in italia questo sarà a fine aprile e quindi anche questa è una novità assoluta pazzesca verranno dei giocatori incredibili ed è una grande novità e a livello mondiale invece ad aprile ci sarà il cosiddetto torneo dei candidati e in pratica non sono i candidati maestri anche i candidati maestri è una categoria di gioco rispetto a questi giocatori proprio irrisoria i candidati sono i candidati al titolo di campione del mondo ok e quindi c'è c'è per dire car one c'è ci sono tutti questi qua c'è un caso innanzitutto c'è il campione del mondo no che ding li ren cinese che ha sconfitto nepponi asci dopo diciamo l'abdicazione se si dice così da parte di magnus karlsen quindi non so se lo sapevi ma la notizia che magnus karlsen non è più campione del mondo se si ho visto che ho visto l'intervista dove dice non mi piace la formula quella lì non la trovo giusta basta non si è stancato si è stancato perché è faticosissimo perché secondo me gli scacchi sono cambiati allora il campione del mondo credo che abbia un fiuto in tutti gli sport è un fiuto particolare sa le cose sente il vento prima degli altri no e credo che magnus karlsen abbia sentito che gli scacchi stavano cambiando e non sarebbe più stato facile per lui davvero ma che cosa c'è perché voglio dire comunque è un fottuto fenomeno lui e quindi c'è magari è in grado di adeguarsi a quella che 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 è il cambiamento o dici no ma che cosa sta cambiando perché se tu dovessi dire cioè non so il ping pong è cambiato proprio negli anni ma le sono cambiate le regole si giocava prima ai 21 adesso si gioca agli 11 è cambiato le regole su come puoi battere prima potevi battere tenendo l'altro braccio che lanciava la pallina davanti e mascheravi il movimento e quindi tu non vedevi niente usciva il coniglio da cilindro ogni volta di sta palla e quindi adesso devi togliere invece il braccio cioè sono proprio cambiate le regole sono cambiati materiali la pallina è più è più grande c'è meno effetto proprio che un altro sport però gli scacchi mi domando che cosa è cambiato ok io sono curiosissimo di quello che mi ha detto perché è camminato tutto perché è stato cambiato così il ping pong per dirti da 21 11 qual è il senso di questo che siccome lo sport per noi sfigati appassionati è veramente poco spettacolare cioè tu vedi una partita di ping pong di fans and don che è un fenomeno contro timo boll che che è un altro fenomeno o sei un addetto ai lavori se non proprio non capisci cosa sta succedendo vedi uno che fa così l'altro fa così sbaglia e diceva beh e quindi non capisci niente per cui cercavano di renderlo più spettacolare ai 21 c'era troppo vantaggio cioè se eri più forte dopo un po avevi troppo tempo per 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 vincere in sostanza quindi ha detto se giochiamo agli 11 è più facile che uno ti piglia uno spigolo gli va di culo 22 punti prende fiducia tu sbagli sei già sotto 4 a 1 e quindi pensavano che ci fosse questo tipo di cambiamento quindi viene introdotto un elemento un po di aleatorietà e spettacolari livella un po in realtà non è cambiato niente perché in realtà quelli che erano forti prima poi sono forti adesso è cambiata la tecnica però insomma l'idea era un po quella rendere lo sport più spettacolare e non ci sono riusciti ad oggi ma da io oggi leggevo una frase di veselin topalov topalov è stato campione del mondo di scacchi è proprio uno fenomeno 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 bulgaro e lui diceva non è che siano finiti gli scacchi in quanto gioco ma gli scacchi continueranno sempre lui diceva è finita in realtà a causa della tecnologia è finita è eccessivo come termine ma lui se lo può permettere la creatività e quindi non c'è differenza fra i giocatori questo diceva che è molto interessante come cosa ed è il motivo per cui karlsen secondo me ha fatto bene a rinunciare al titolo di campione del mondo ed è esattamente quello che dicevi tu con la riduzione da 21 a 11 cioè si assottiglia sempre di più si uniforma sempre di più il livello è molto difficile per esempio topalov era un giocatore riconoscibile tu vedevi le sue partite ed erano proprio le partite di topalov non potevi no era il suo stile ben definito adesso invece tutti quanti giocano allo stesso modo ma perché perché il maestro che abbiamo è lo stesso per tutti quanti mentre prima che ne so topalov veniva fuori dalla scuola bulgara una scuola molto dinamica l'est indiana giocava schemi taglienti eccetera e adesso non ci sono più esso c'è la scuola della verità oggettiva del silicio che è così punto e basta vale in bulgaria vale in italia vale no a qualsiasi latitudine in qualsiasi momento è interessante questo perché forse anche nello sport è successa la stessa cosa dove in un qualche modo c'è una verità oggettiva data dal fatto che tu hai accesso a qualunque tipo di video contenuto e prima non era così e prima se tu volevi non so sapere com'era la scuola svedese di ping pong io sono andato a stoccolma per capire come si allenavano la cina dovevi andare in cina forse per il ping pong è ancora così nel senso che in cina c'è una barriera linguistica e quindi tu alcuni concetti ancora adesso non vengono trasmessi così facilmente a un europeo però il resto è tutto visibile pensa al tennis tennis io guardavo un match altro giorno tutti tirano a 300 all'ora tutti cioè bello bello però è veramente molto fisico molto uniforme ecco a meno poi di essere capito un fenomeno pazzesco che però è veramente in genere cambiato ecco lo sport a quel punto di vista guarda un'altra osservazione l'ha fatta casparov molto interessante riguarda proprio questo aspetto cioè figurati nel tennis no io non posso imparare alcune cose se non mi reco di persona no se non le faccio di persona gli scacchi invece sono proprio per eccellenza smaterializzati prima magari circolavano sulle riviste io c'avevo una rivista è leggendaria la cosa che fisher aveva imparato il russo per leggere la letteratura di scacchi in lingua russa capito perché all'epoca era quello l'intelligenza artificiale era quella era letteratura russa negli scacchi adesso invece gli scacchi sono assolutamente trasmissibili a distanza quindi è vero che tutti quanti hanno accesso e casparov diceva questo diceva ok prima c'erano effettivamente luoghi in cui si scambiava il sapere fra persone giocatori fantastici no cioè i grandi campioni si incontravano fra di loro nei tornei o nei campi di allenamento e lì si creava la conoscenza scacchistica si trasmetteva adesso si fa tutto che ne so ti prendi un video su cessable e c'è il repertorio della neidorf di ghiri che vuoi fare come puoi combattere contro questa cosa lui diceva c'è un ragazzino che in pochi anni si impegna è chiaro che c'ha talento lavora alle risorse quello che vuoi si impegna e raggiunge conoscenze che io casparov non ho non potevo ottenere cos'è il repertorio della mamma di colpa e cos'è che hai detto negli scacchi c'è per esempio la la madre di tutte le aperture secondo me no che è quella più difficile con più complessità eccetera che la cosiddetta variante naidorf della difesa siciliana che se vuoi un giorno poi te la faccio te la faccio vedere potrei potresti potrebbe essere una cosa interessante ma chiaramente richiede uno studio mostruoso pazzesco matto e disperatissimo e ghiri è il più grande esperto contemporaneo dal punto di vista teorico almeno lui vascella grave insomma c'erano alcuni grisciuk ma ghiri è proprio di quelli teoricamente molto preparati ha fatto un corso e non so tu ti prendi questo corso te lo studi ti ci vorranno sei mesi ma una volta che sei quello va a giocare la naidorf contro un ragazzino di 15 anni che si è studiato per bene il corso di ghiri che gli hai chiaro chiaro non so se farò il corso di ghiri però partirei da questo indovinello fiera questo puzzle questa settimana secondo me hai fatto una cosa molto buona dal punto di vista dell'abitudine che è quella di appassionarti a quelli che tu chiami puzzle gli indovinelli all'indo chiamiamoli indovinello è bello anche stavamo degli indovinelli ok è un indovini scacchi sono un costante indovinello bene cominciamo da questo qui questo ti ha fatto un po perdere il sogno allora se questo penso penso di esserci arrivato però adesso a voi che muova o che metta le freccette o che lo dica solo a me fai come preferisci ma nuovi con le freccette così è più è più facile allora la mia idea è questa qua torre mangia la torre in centro questa possiamo possiamo farla anche mai a questo punto lui può non fare niente io ho portato a casa una torre e quindi come dire good luck oppure mangia la mia torre scusami che ho sbagliato quindi è uno e due vuoi farle proprio le mosse così ok quindi mangio di qua e questa è la nuova posizione perché ho fatto questa mossa perché voglio liberare la mia regina che chiaramente qua diventa molto pericolosa cioè un cavallo dominante e una regina che la domanda è come faccio a penetrare questa posizione il termine proprio quello giusto ok allora l'idea è torre f5 e qua si aprono degli scenari qual è la minaccia di torre f5 cioè se il nero non fa niente se hai un'altra mossa che fai beh se il nero non fa niente diciamo che fa non so questo io a questo punto o torre h5 scacco molto bene sfrutti l'inchiodatura il re deve andare in g8 unica mossa g8 e a questo punto o ma praticamente o matto ma sostanza ma molto bene quindi torre f5 tecnicamente minacci matto in due mossa esatto ora lui però potrebbe dire no sai cosa tu fai torre f5 e io non mangio a potrebbe diciamo prima si vede la presa no per logica vediamo che succede se mangia ok se mangia in questo punto io entro con la regina con la donna e lui insomma può andare di qua o di là direi diciamo mai in h6 c'è matto subito sul re h6 re h6 c'è matto subito che questo giusto ok l'altra opzione è che lui invece scappi da qualche altra parte e qua insomma c'è uno scacco di qua unica e diciamo a e arrivo a dare il mio mio matto tranquilli sono poi questo diciamolo lo domino così quindi non può mangiare in sostanza questo è il concetto di base se non può mangiare però che cosa fa questa deve contrastare la minaccia torre h5 scacco e nello sposta il re per schiodare il pedone g o sposta un pezzo in modo da controllare la casa h5 non si oppure diciamo si prepara a subire questa terribile mossa contrastando nelle conseguenze ma non sembra diciamo facilissimo con contrattacchi non ce ne sono perché scacchi non ne ha e chiaramente se fa cavallo e 3 che sarebbe una mossa di contrattacco cioè torre h5 scacco e vinci subito ok quindi può andare ad esempio qui la più resistente sembra questa re h6 e qui dobbiamo capire come si vince re h6 il ragionamento che facevo era questo se vado g5 tu vai proprio al suono non ti interessano no le mezze misure no cioè se vado in g5 comunque uno scacco e qua si pongono delle delle opzioni se lui mangia e immagino è dovrà mangiare perché altrimenti potrebbe tornare in a casette in realtà g5 scacco non è forse così furba perché se torna in a casette ti sei chiuso la diagonale la strada per la torre no questo è anche vero prima di g5 scacco secondo me hai di meglio torna indietro qui qui è diciamo una situazione abbastanza preoccupante no per il per il re nero perché qualsiasi scacco sarebbe praticamente finita chiaro quindi o cerchiamo di fargli un matto imparabile creare un quadro immaginare un quadro di matto in cui non se ne scappa più o cerchiamo di essere più pragmatici e ce la vinciamo con gli scacchi normali che ci sono nella posizione quali sono gli scacchi vediamo prima di scacchi interessanti g5 scacco che altri scacchi ci sono o g5 scacco o h5 scacco torre h5 scacco oppure o regina d2 scacco che sembra quello più più fastidioso no se lo dici tu è quello è la soluzione più semplice perché sul re h7 ti mangi il cavallo in d5 su re h7 mangio cavallo in d5 giusto questo quando ho visto questa posizione io mi sono accontentato di donna di due scacco torre 25 diciamo sono stato un po pigro e non assolutista in realtà possiamo divertirci possiamo cercare di trovare mosse spaventose quali sono le mosse spaventose donna f2 come donna infatti questa a me piaceva lui a quel punto a se mangiare finito scacco e mangiare io entro e inizio a farle le solite cose sono ok non f2 deve fare g5 unica mossa ok torna indietro ok questo è matto torna indietro adesso probabilmente g5 è l'unica mossa giusto ma secondo me non ti salva nessuno qui no guarda se vogliamo essere brillantissimi questo è a me piace molto la tattica no questi quelli indovinelli piacciono molto perché alla fine spiegano gli scatti negli scatti una delle forze più grandi o la forza della natura e la cosiddetta coppia maledetta la donna e il cavallo ok sai perché perché la donna racchiude il movimento della torre dell'alfiere giusto yes se aggiungi il cavallo hai una combinazione di tutti i possibili diciamo di tutto l'arsenale scacchistico concentrato in due pezzi ed è una cosa spaventosa quindi di solito donna e cavallo se il resta da solo se il re nudo donna e cavallo sono pazzeschi qui però c'è un problemino che il pedone b2 imprese io volevo fare diciamo la cosa elegante volevo fare torre per g5 f per g5 donne f7 con matto imparabile perché se controlli la casa h5 ti do matto in g7 che c'è una collaborazione fantastica fra fra i pezzi bianchi il problema è che c'è b2 impresa quindi non posso fare questa cosa perché la donna nera entra e addirittura vincerebbe il nero quindi ma banalmente banalmente h4 sì però stiamo perdendo un po il ritmo sicuramente vince h4 sicuramente vince stiamo però un pochino perdendo il ritmo cosa si può fare di bello in questa posizione a volte bisogna anche un po rassegnarsi a fare le cose non più belle ma più efficaci h4 sicuramente vince secondo me non vedo combinazioni di quelle che portano al matto immediatamente al matto per cui forse donna f2 g5 ci stiamo complicando un pochino la vita forse non è il caso di giocare di giocare in questo modo ok vediamo re h6 torre f5 re h6 abbiamo gioco donna d2 scacco vince noi sappiamo che questa mossa banalmente vincerebbe la partita abbiamo delle alternative non so se abbiamo le altre questa tua mossa g5 è molto interessante g5 è molto carina come mossa c'è da vedere se funziona sempre la solita la solita storia ma non si g5 re h7 mi preoccupa un po cioè preoccupa nel senso che non vedo proprio la vittoria fulminea che per riaprire dovremmo fare g per f6 ma qui se mangia col cavallo difende la casa h5 quindi si sta si sta rimettendo diciamo un pochino in sesto a volte bisogna essere pragmatici ci vinciamo un pezzo c'è un pezzo in presa e ci vinciamo un pezzo e poi daremo un atto alla mossa successiva forse forse questa è la più veloce torre per g5 questa è la più veloce giusto giusto perché nel momento in cui mangia io sono ok questo era un bel esercizio ma ti faccio notare alcune cose hai usato solo mosse forzanti no che qui giustamente mangi per non perdere tempo allora il cambio è molto buono nelle operazioni tattiche perché primo non ti fa perdere tempo giustamente quando mangia una torre non è che l'altro può fare tante altre cose perché se non ti mangi una torre good luck ma come dice non c'è non c'è molto da fare b per c4 adesso abbiamo guadagnato tempo abbiamo anche liberato la strada abbiamo anche diciamo ridotto il numero dei pezzi avversari quindi il cambio è una cosa buona perché è veloce e sbarazza un po il campo e poi torre f5 è sempre una mossa forzante no perché una minaccia di matto in due quindi fondamentalmente abbiamo usato tutte le mosse più forzanti presenti nella posizione nella posizione qui dopo re h6 ovviamente si uno scacco che è la nostra più forzante in assoluto quindi la difficoltà sta spesso nel trovare le mosse che minacciano perché sono più silenziose rispetto a questa è una manovra tattica no voglio fare tac tac e questo un po più difficile da vedere se complesso ecco c'è perso un sacco di tempo il mio sono una sensazione nel cervello oltre di totale fastidio non so non so definirlo come quando facevo matematica che io non sono bravi in matematica che dice non capisco ecco il mio cervello vuole fermarsi invece se noto che se riesco invece a sforzarmi per avere questo questa abitudine al calcolo e alla visualizzazione è ovvio che poi torni utile devo dire che rispetto rispetto alla scorsa settimana ho giocato molto meglio non bene non sto giocando bene rispetto a quello che potrei fare secondo me però senz'altro meglio insomma a volte ho dei momenti che faccio dei filotti e vinco sette partite di fila e poi faccio una serie di cazzate cosmic insomma è ancora molto un roller coaster però noto un chiaro beneficio ecco dal fare questo tipo di pallosissima attività no poi quando comincia a diventare diciamo bravo nel fare questa attività che tu già te la cavi bene ma quando cominci davvero a trovare spesso le soluzioni giuste poi ci prenderai gusto ci prenderai molto più gusto non è non è così noiosa è noiosa perché diciamo nella tua mente si stanno ancora attivando questi superpoteri ancora non ce li hai quindi dici ok è faticosissimo è comunque faticoso c'è il calcolo questa fase qui è comunque molto molto faticosa però la ricompensa è la bellezza presente negli scacchi negli scacchi ci sono delle soluzioni eleganti è un po come la matematica un po come le dimostrazioni matematiche in cui c'è una grande economicità una grande diciamo quasi dei paradossi delle soluzioni sorprendenti eccetera ma vedrai che questa è proprio l'infrastruttura di base senti piero una domanda che ti facevo anche via whatsapp dove sono il tuo incubo peggiore però la domanda è questa ho due situazioni di grande sconforto al momento quando gioco se gioco con il bianco o gioco la mia jobbava london e quindi in un qualche modo so dove vado a parare più o meno ecco però più o meno so cosa succede all'inizio dove mettere i pezzi qual è la mia posizione sulla scacchiera più o meno ce l'ha in testa appena entro invece con un gambetto la posizione si apre molto di più e quindi magari vinco molto più velocemente perché l'altro non sa bene cosa fare però anch'io non so bene cosa fare e quindi mi ritrovo in situazioni molto scomode questa è una cosa col bianco dall'altro lato invece quando sono col nero gioco la mia caro can però a volte mi trovo proprio soffocato questa sensazione di essere appiattito sempre di più e sono lì nel mio angolino che cerco in un qualche modo di dipanarmi e anche quando magari arrivo che arrocco sviluppato tutti i pezzi ci ho fatto il mio lavoro iniziale a quel punto di cobe adesso sono qua chiuso in questa questa gabbia che non so bene poi come uscirne ecco e quindi sono così mentalmente in questo status ti capisco bene e quando tu hai fatto diciamo quello che va fatto all'inizio no arroccare sviluppare i pezzi controllare il centro eccetera che è una cosa relativamente semplice no da fare poi bisogna avere la prontezza di cominciare un'altra partita allora la grande difficoltà di nel giocare a scacchi e che non è che valgono sempre le stesse modalità di pensiero sono diverse modalità di pensiero per esempio nelle fasi in cui non c'è prima distinzione grande quella fra posizione in cui c'è qualcosa da fare di concreto tipo indovinello ok indovinello che non sai che c'è però c'è capito quanto è difficile gli scacchi già è difficile l'indovinello quando sai che ci faccio l'indovinello negli scacchi non sai neanche che c'è l'indovinello ok quindi se la posizione ha una natura di questo tipo cioè una posizione tattica concreta vale un certo tipo di ragionamento che il ragionamento che abbiamo studiato all'inizio cioè mosse forzanti debolezze tattiche ok vale questo ed è relativamente semplice cioè se in partita due tre volte io ti dicessi guarda monti che qui è tattica per te sarebbe fantastico ok adesso guardo queste cose mettoni e penso quindi fare tanti esercizi oltre a irrobustirti ti serve anche a darti l'esperienza per riconoscere da solo che c'è l'indovinello è un doppio valore di questo esercizio poi che succede nella maggior parte delle situazioni non c'è questo indovinello nella maggior parte delle situazioni bisogna costruire il gioco ok e questo si fa con delle idee con dei piccoli piani cioè la partita deve essere spezzettata in piani di 3 4 mosse non c'è bisogno di fare piani lunghissimi eccetera ma tu nel giro di 3 4 mosse devi avere tutta una serie di idee un repertorio non più l'apertura ma un repertorio di idee scacchistiche e chiaramente ne hai molte di più quante più posizioni diverse giochi la tua difficoltà in questo momento è quella che hai un range di idee scacchistiche da usare un repertorio limitato ecco perché quando tu c'hai una posizione in cui puoi usare le tue idee già che bello so che esatto quando non rientri in queste situazioni improvvisamente che faccio non c'è non ho punti di riferimento esattamente dottore esattamente quella roba lì è esattamente questo quindi che cosa dobbiamo fare dobbiamo cercare di volta per volta guardando le tue partite costruire questi nuovi repertori di idee l'altra volta abbiamo visto che ne so una situazione in cui preparo la spinta f6 per aprire una colonna in cui c'è che ne so la debolezza delle case di un colore sono cose un po astratte però giocando e provando a farle un pochino chi ci ritrovi diciamo la difficoltà è che mentre l'inizio della partita è molto ben codificato quindi è una sequenza di mosse iniziale facile relativamente facile perché così 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 eccetera e si può trasmettere queste idee vengono giocando vengono un po più avanti che a cominciare a fare e utilizzare delle macro categorie del tipo posizione tattica o non tattica tu guardi la posizione di cimonti ma questa posizione che devo fare devo calcolare e basta o devo ragionare prima macro categoria ok tu basta quando hai una posizione non c'è l'avversario muove per di stai giocando una partita l'avversario muove chiaramente il tuo pensiero va alla mossa dell'avversario un pochino no a quello che stavi facendo eccetera quando hai fatto questa cosa che un po una ricognizione giusto se c'è qualcosa che subito no si vede eccetera fatta questa cosa puoi guardarla un attimo o anche mentre pensa l'avversario poi guardarla un attimo e dire ma che stiamo giocando stiamo giocando l'inizio della partita il centro la fine una posizione tattica una posizione in cui devo invece fare un piccolo piano guardo i miei pezzi che ne penso dei miei pezzi queste sono tutte le domande che si fa uno scacchista guarda guardiamo qualcuna delle due partite così cerchiamo di applicare questa cosa innanzitutto ne voglio mostrare una perché sono stato fiero di te hai preso hai preso l'unica allora perché ho registrato anche delle partite da caricare che le persone chiedono sempre i carichi le mie partite onestamente ho detto vabbè non lo butto via sto video perché l'ho registrato quando lo caricherò mi vergogno profondamente ecco in generale però ebbè hai vissuto diciamo in questa settimana anche quella precedente comunque è avuto un periodo no striscia negativa striscia positiva è impressionante vinto dieci partite di fila che qualcosa di notevolissimo però è bella stava cioè per te brutta ma è dal mio punto di vista è bello che tu abbia toccato con mano quanto si può scendere in basso e quanto si può salire in alto che è comunque una cosa tipica degli sport questa mi è piaciuta perché come atteggiamento hai giocato veramente per per l'attacco non ti sei accontentato di vincere tono no io vengo qui e ti do matto allora questo è uno schema in cui ti trovi molto bene perché l'avversario ti lascia il centro sono schemi della cosiddetta difesa moderna o pirk e tu ti prendi il centro alfiere g5 fantastico cavallo d7 anche questa è una mossa buona il nero si sviluppa cavallo f3 cavallo gf6 potrebbe già essere imprecisa anzi probabilmente già è grave seriamente imprecisa come mossa perché tu giustamente fai e 5 e qui è giocato proprio bene perché d per e 5 d per e 5 cavallo g4 esso e 6 non si può difendere ma tu giustamente lo sacrifici questo è un sacrificio di pedone tipico molto diciamo caratteristico delle posizioni d'apertura serve a spezzare la struttura dell'avversario perché adesso quando i pedoni a parte che sono doppiati ma comunque quando togli il pedone f7 tutta una serie di case che possiamo indicare come per esempio la casa e 4 e 5 e 6 tutte le case che potevano prima essere difese dal pedone f7 improvvisamente non sono più difese inoltre l'alfiere in c8 rimane bloccato non può più andare nessuna parte questo è un sacrificio proprio tematico tipico degli scatti spezzi in due la struttura avversaria il pedone la pura materia la quantità non conta perché ha i vantaggi molto più grandi rispetto al pedone sei fantastico giocato proprio ottimamente al fiere c4 sviluppo alla morfi ti ricordi la partita di morfi tempo e sviluppo tu hai giocato questa partita nello stile di morfi tempo e sviluppo ottimo cavallo di per 5 e qui mi è piaciuto tantissimo che cambi le donne e il cambio delle donne amplifica il vantaggio di sviluppo fantastico hai giocato come morfi proprio sono stato fierissimo di questa partita fino a qua e poi non avevo la più pallida idea in realtà da qua in mano no 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 ma sei stato bravo guarda che bello qui ha sviluppato tutti i pezzi puoi fare tante cose ma non hai dato un attimo di trego di fregua al tuo avversario cavallo b5 ha giusto perché ho pensato lui ovviamente può mangiare per io vado questa è stata un'ottima partita molto molto bella poi ci saranno sicuramente degli errori ma non mi interessa questa cosa con atteggiamento è giocato alla grande cavallo b5 lui diciamo vuole vedere un po che succede mangia scacco re f7 qui ti puoi mangiare la torre che sarebbe stata la mossa normale perché ero preoccupato perché c'era f2 in presa questo era il motivo per cui ero preoccupato però f2 ti apre la colonna f per esempio cavallo per f2 torre hf1 se cavallo per di uno qui tira aria di matto e in qualche modo fare come minimo cavallo e 5 scacco doppio e quando il re se ne va alla se viene qui davvero quasi ti sto dando matto se viene qui stai comunque messo male ma in ogni caso mi mangio il cavallo ottengo un vantaggio molto grande ok stiamo a pezzi pari no tre pezzi per parte però il cavallo è intrappolato dove va sto cavallo no no è vero è che è sempre la mia insicurezza poi di andare a giocare dei finali dove penso sempre se ho meno pezzi o siamo uguali poi mi incasino sempre nei finali non so mai bene come portarla a casa per quello non ho mangiato la torre no 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 invece vabbè non l'hai mangiato la torre è stata una scelta bellissima perché è giocato per dargli matto a me è piaciuta molto come come idea alfiere f4 mossa alfiere h4 mossa brillante veramente bella qui c'è pensato vada che bello vedi le cose belle a scacchi questa è una partita bella ok hai creato una partita bella non importa se è corretta o scorretta ma è bella le cose belle nascono solo dalla riflessione se uno non pensa se gioca in maniera automatica non farà mai una cosa bella fiera h4 probabilmente sbagliata non io non ho analizzato con il famoso silicio ma dal mio punto di vista al fiera h4 è una mossa estremamente creativa questo ai tempi miei si metteva punto esclamativo punto interrogativo mossa interessante potrebbe essere sbagliata monti non lo so se giusto ma l'idea è molto bella ok difendi f2 perché ti va di difendere f2 lui fa scacco giusto avrebbe uno però non ti sta minacciando il re perché non ha pezzi per minacciarti e sposta la torre che sembra anche la reazione naturale perché è una torre attaccata la salva va bene scacco e adesso c'è stato da parte sua il grave errore diciamo che avrebbe dovuto giocare senz'altro la mossa re g7 e non è assolutamente chiaro come sarebbe finita la partita tu hai diverse possibilità in questa posizione hai tante possibilità interessanti forse hai un pochino esagerato cioè a vederla adesso senza l'entusiasmo della 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 prima volta forse hai un pochino esagerato in questa posizione però alla fine si è stato premiato per questa la prendenza e fatto un errore che ha vinto alla fine regi 7 credo che ti avrebbe messo in grossa grossa difficoltà qui hai un pezzo in meno e purtroppo non riusciamo ad attaccare bene questo re cioè l'unica cosa che puoi fare è uno scacco in e 6 ma ti mangia e cominciano a cominciano a ridursi molto il numero di pezzi in gioco quindi questa purtroppo non mi sembra una soluzione ideale sarebbe bello attaccare il re con altri pezzi ma non vedo come possiamo fare e anche questo alfiere qui comunque difende bene la diagonale quindi credo che qui saresti stato seriamente in difficoltà però si dice che l'attacco no porta l'avversario a sbagliare lui fare f6 si espone allo scacco doppio e di scoperta va addirittura in e 5 questa è una partita assolutamente pazzesca va assolutamente in e 5 torre h guarda come è giocato bene proprio bellissimo tutti i pezzi in gioco come morfi fantastico non importa che sia corretto al cento per cento non importa assolutamente cioè conta il tentativo contro la volontà di giocare bene f5 e adesso forse potevi già fare matto in due no scacco non può andare in f6 non può andare in g5 e se f3 ti complichi la vita lui va in e 5 per fortuna perché poteva andare qui e sarebbe stato diverso oh è vero perché ti blocca la strada no mentre c'era matto in due f3 lui non vede questa cosa stacco e matto alla grande così si fa chiaramente ci sono dei momenti in cui no sia tu che lui non avete giocato le mosse ideali ma quando si creano posizioni così complesse è normale che ci siano errori gli errori sono benvenuti sono molto importanti e poi incredibile come una mossa cambia tutto cambia tutto una mossa determina l'intero andamento del match perché sono posizioni tese che giocando questo tipo di aperture giochi posizioni tese non sono posizioni in cui piano piano non si fa qualcosa sono posizioni in cui succedono veramente cose interessanti abbiamo una partita col nero in cui hai sofferto in cui ti mettono tu dici non un pochino con la testa a mollo giusto se questo succede spesso negli schemi con d4 perché effettivamente il bianco ha un po più di spazio a un po più di tempo qui lui gioca il famoso famigerato sistema di londra che è caratterizzato dallo sviluppo di questi pezzi così e poi dopo dal pedone in e3 che blocca il mio pin del cavallo in g4 sì lui mette il cavallo in c3 che non è affatto una buona mossa rispetto alla giobbava qui il bianco ha già messo il cavallo in f3 quindi perde un sacco di possibilità dinamica qui però monti donna b6 e un chiaro errore posizionale cioè si può giocare in tante posizioni donna b6 qui potrebbe anche essere giocabile però la regola generale è che la donna va sviluppata dopo aver raccontato ok a meno che non vuoi arroccare lungo ma non credo che tu voglia arroccare no cioè se qui il bianco gioca donna d2 non è una mossa sbagliata perché sta preparando l'arrocco lungo ma tu qui vuoi arroccare corto quindi probabilmente vorrei fare e6 sviluppare l'alfiere e arroccare corto questa è la catena logica no è quello che faccio di solito donna b6 spezza un pochino questa cadena però è interessante perché donna per b2 è una vera e propria minaccia visto che il pedone c2 è attaccato e lui reagisce con torre b1 ci può stare anche questa mossa sicuramente non so cosa avrei fatto io forse avrei fatto cavallo a4 perché mi preoccupa un pochino la torre in b1 che non che non fa granché credo che avrei fatto cavallo a4 e tu devi spostare la donna non mi dà molto fastidio lo scacco perché faccio c3 e se eventualmente b5 c'ho la casa c5 se no sono pronto io a giocare la donna in b6 è una perita di tempo infatti poi ogni volta che lo faccio me ne pento sempre dopo va bene come nostra dopo va bene lui fa torre b1 che giustifica la tua mossa donna b6 e 6 giusta a3 non serve a granché a tra l'altro poteva fare per giusto per dire una cosa ti ricordi il trabocchetto che ti ho insegnato a treno per il per intrappolare la non funziona perché cerci due imprese questo è un caso in cui il nostro trucco non funziona ok lui fa torre b1 e 6 a3 gioca un po come giochi 2 non vuole permettere alfiere b4 alfiere come giocavo io pietre come non muovo più io come giocavi tu come giocavo io se ormai puoi venire lì metti alfiere quello che vuoi non c'è problema fantastico il vecchio me eccola monti mosse come g6 lo so sai cosa è perché posso dire una roba ho visto gotham chess e ho detto aspetta che provo sta roba con questa struttura così poi nuovo mi apro la colonna muovo la torre c'è una cazzata cosa l'ho fatto due volte ma no 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 l'inizio della partita è pura e semplice logica l'alfiere ha bisogno di una diagonale di sviluppo non di due quando hai fatto e sei per sviluppare quest'alfiere non deve più fare g6 d'accordo non devi avere paura di farti mangiare ok qua fai cavallo di set se ti mangia mangi ok e poi c'è la casa e 4 per esempio arrocco cavallo 4 se ti mangia mangi adesso abbiamo guadagnato spazio stiamo probabilmente meglio per esempio idee strategiche no così costruiamo questo famoso repertorio idee strategiche in questa posizione che cosa vogliamo fare in questa posizione ci sono due queste qua quando i pedoni sono collegati così si chiamano una catena di pedoni ok e il nero caccia quest'altra catena di pedoni due catene pedonali a confronto a confronto che si bloccano diciamo una con l'altra queste catene ok la punta della catena quando c'è una catena di pedoni non che ti sarà capitata diverse volte questa situazione della catena di pedoni la carriera di pedoni si caratterizza per una punta che proprio da quello che sta sopra e una base ok che è quello che sta in fondo la punta della catena ti indica la direzione del gioco se la punta della catena sta diciamo in questa metà qui della scacchiera questa al centro diciamo allora il gioco va da questa parte se invece la punta sta dall'altra metà della scacchiera qui per esempio il gioco va da questa parte diciamo il gioco che conviene a chi ha la punta avanzata quindi il nero vorrebbe giocare sul dato dire ok allora vorrebbe selvaggiamente giocare f5 g5 f4 ok ma come ragiona un giocatore di scacchi se io faccio subito f5 mi mancherebbe un pezzo la torre perché non sta facendo niente nato ok allora non attivare un pezzo ok bravo ancora non sto nella fase esecutiva sto nella fase di preparazione allora qui per esempio uno fa torre a e 8 e ti prepari a tornare con la donna in di 8 facciamo finta che il bianco non gioca niente io me ne torno con la donna perché la donna mi serve su questo settore non mi serve più sul lato di donna a questo punto sono pronto a giocare con tutti i pezzi questa è una tipica idea strategica raccogliere pezzi pesanti in questo modo nel settore in cui ti serve mettendo la donna dietro ok però come mi sfugge come lo sviluppo poi il gioco da qua continuiamo a non far fare niente al bianco il nero gioca g5 a quindi manda avanti pedoni dal lato del re così brutalmente guarda quanti pezzi c'ho c'ho tutta la famiglia qua ok lui se ne andrà se viene qui puoi fare f4 con guadagno di tempo se ne andrà qui probabilmente posso fare già se non f4 forse se proprio voglio fare una mossa così faccio re h8 per spostare il re e poi in seguito farò questa mossa f4 con gioco molto molto dinamico e molto buono sul lato di re un'altra idea strategica potrebbe essere cambiare gli alfieri per esempio cavallo f6 magari tu vieni qui e ti cambio gli alfieri cambiati gli alfieri è molto brutta per il bianco perché a questo punto sto facendo f4 prenderò un sacco di spazio vedi come tutti i pezzi del nero stanno giocando insieme no ok quindi cerco in sostanza di di rompere entrare con i pedoni in primis se aprire aprire questa posizione per poi portare avanti la cavalleria esatto si mandano avanti i pedoni con i pezzi dietro si scambiano i pedoni per aprire le linee si occupano le linee con i pezzi si cercano case belle per i cavalli diciamo i pezzi di linea no la torre gli alfieri le donne non hanno grandi problemi a entrare in gioco perché appena si aprono le linee comunque loro controllano le case giusto se il cavallo è più problematico perché il cavallo un po si è un pezzo proprio prettamente tattico il cavallo un pezzo che deve stare lì non è che se sta dall'altra parte deve stare in quella casa non deve stare a contatto con lo schieramento avversario quindi il cavallo devi trovargli una bella casa in cui metterli altri pezzi basta che stiano dietro le linee ok comunque la partita continua il tuo avversario ti cambia ti permette di aprire la colonna g fa ecco qui per esempio continui a giocare col cavallo in b8 e la torre in a 8 che non è una bella cosa no qui vuoi giocare con questa seconda scusami pierre avendo questa cazzata a questo punto avendo mosso la regina ho il problema di che non riesco a sviluppare il cavallo in d7 dovrai fare f6 donna di 8 mi piace mi piace come idea perché riconosci che la donna non sta bene qui è giocato in maniera molto buona credo che lui abbia mancato un colpo tattico il fiore a pese che poi credo abbia fatto dopo tu disposti giusto e qui si sta aprendo la posizione aia qui mi sa di cosa molto problematica qui è proprio l'errore iniziale di aprire c6 col pedone che non aveva proprio nessun significato lui secondo me devi contrastare questo attacco del bianco prima che ti faccia f3 che sia troppo tardi credo che l'unico modo sarebbe fare f6 cioè paradossalmente quando c'è già il re scoperto tanto vale aprire tutte le linee almeno possono passare i pezzi più facilmente probabilmente deve fare questa per non perdere il cavallo e qui ne approfitti per fare donne 8 guadagni per così dire un tempicino per scacciare la sua donna eventualmente troverai la casa g6 per la buona qui non stai male perché poi fai rai h8 torre g8 certo finalmente sviluppi sto cavallo però diciamo quali errori fatti sono sviluppare soprattutto la donna senza senso avanzare in g6 il pedone il motivo è quello che stai perdendo tempo rispetto allo sviluppo la tua priorità è soltanto sviluppare i bassa non ti fare molte domande sviluppo i pezzi ogni mossa sviluppo un pezzo morfi ogni mossa un pezzo ogni mossa un pezzo ogni mossa un pezzo anche quello che voglio dire per in questo caso e l'ho giocata proprio male però ci sono altri esempi dove io sviluppo i pezzi alla settima mossa sono già arroccato fatto tutto bello pronto no diamo questa per esempio però poi mi trovo ecco per dire qua sono sono nero giusto se vediamo a girare la scacchiera e fa sto caldo bene no qua sono arroccato sono sviluppato fatto tutto ecco questa è la nostra posizione tipica che abbiamo che capita in tante situazioni bisogna avere un pochino delle idee per proseguire allora in questa posizione siamo nel caso in cui c'è la lotta fra i due alfieri del bianco contro un cavallo un cavallo e un alfiere del nero ok quindi già dobbiamo capire che tipo di posizione stiamo giocando è una una posizione di questo tipo quali sono gli elementi quando l'avversario c'ha un alfiere che noi non abbiamo allora tu già hai messo bene i tuoi pedoni hai giustamente messo i pedoni su casa di colore del suo alfiere questa è un'ottima cosa perché così lo contiene no secondo elemento giocare sul colore opposto all'alfiere dell'avversario però scusami qua io vedo due alfieri suoi cioè tu dici quello che io non ho bravo quindi alfiere bianco che bravo giocare sul colore opposto noi vogliamo giocare sulle case scure che sono le nostre case va bene terza cosa forse la più importante cambiare l'alfiere che possiamo cambiare col nostro quindi la nostra idea strategica sarà provocare il cambio di questi alfieri oppure attaccare delle cose che stanno sul colore scuro cercando di limitare invece il gioco su casa chiara poi sono posizioni piuttosto tecniche queste quindi forse per questo non è così semplice giocati qui non non è che c'è una mossa migliore delle altre poi fatto alfiere e 7 che non è male non mi piace tanto perché stava bene in di 6 questa giustamente hai riconosciuto la minaccia alfiere per f6 io alfiere per f6 io scusa io credo che me ne sarei andato con il cavallo perché tanto questo cavallo non è che sta facendo grandi cose forse me ne sarei andato qui con il cavallo qui dove in disegno a ho sempre paura pierre quando sono in queste posizioni a lasciare solo soletto il re con la torre pedoni e penso che adesso mi arriva giù c'è la regina c'è due alfieri e quindi cerco sempre di tenere qualche cosa la ecco questo è il motivo allora giusto giusto quando non c'è il cavallo in f6 l'altro l'altra casa buona è la casa f8 per esempio facciamo fare una mossa plausibile è molto buono in questi casi utilizzare la casa f8 per il cavallo sempre facciamo una mossa che ne so plausibile il cavallo qui sta sempre bene perché difende l'arrocco e non può essere facilmente attaccato questa è una situazione di gioco solidissima molto buona un'altra situazione di gioco molto buona è quella di mettere l'alfiere in f8 e eventualmente prepari il fianchetto g6 alfiere g7 il cavallo in f8 lo gioco quando c'è la tarta cover con la variazione lì a quel punto giro il cavallo in f8 pronto a saltare in g6 esatto per esempio questa è un'idea strategica che puoi utilizzare in posizioni simili cioè trasferire l'alfiere in fianchetto che in questo caso è buono perché il bianco non ha fatto c3 ma tante volte ti trovi col pedone in c3 questo potrebbe essere un'idea interessante poi ci sono delle idee diciamo dinamiche no delle idee per creare gioco allora in questa posizione l'idea dinamica di base torre 8 io la farei perché comunque torre 8 mi aiuta a poter fare cavallo f8 o alfiere f8 se l'idea strategica di base qui è quella di giocare b5 che a sua volta a due sotto idee una è fare b4 l'altra idea è sfruttare la casa c4 io posso fare cavallo b6 cavallo c4 queste sono idee monti se sono le cose che non diciamo in partita uno non trova da solo devi diciamo lo studio di tante partite su queste posizioni porta ad avere queste idee allora in questa struttura tipica che si chiama struttura di calzman ok in questa struttura tipica una delle idee fondamentali è quella di giocare il cosiddetto attacco di minoranza vedi che qua ci sono tre pedoni bianchi contro due pedoni neri allora questi due pedoni coraggiosissimi si buttano all'attacco dei tre pedoni avversari per creare per esempio il sogno sarebbe raggiungere una posizione di questo tipo in cui il cavallo se ne va e i pedoni bianchi che erano fantastici diventano deboli ok anche il caso inizia avanzare ad esempio cavallo a cinque bravo bravo in quel caso li attacchiamo quel caso è molto semplice giocare occupo le colonne con le torri e vado a mangiare tutto quello che posso mangiare sono obiettivi d'attacco ok per cui non sto pensando a come faccio a dargli matto cioè mi concentro di qua no 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 purtroppo no non non sempre col bianco è più facile impostare la partita in modo che ci sia il matto col nero se il bianco non ti permette di giocare situazioni con l'attacco purtroppo non puoi decidere tu arbitrariamente di giocare per il matto ok ok quindi qui il gioco è molto chiaro fare questa mossa d5 sfruttare c4 che è una casa davamposto su colonna semi aperta ed eventualmente fare la rottura b4 cioè se sì ma questo quindi come strategia quando io gioco la caro can nel 70 per cento dei casi mi trovo in questa posizione qua fantastico queste sono le posizioni mi concentro sempre su attacchi di minoranza tu ti devi ricordare quando uno deve giocare un tipo di posizione questo famoso repertorio ogni pezzo deve avere una sua casa deve avere uno schema mentale ok lo schema mentale ideale per esempio che tu puoi proprio farti una fotografia e questo qui c'hai i pedoni su casa e facciamolo con un colore sale bello facciamo azzurro i colori su casa i pedoni su su casa bianca per contro per contrastare l'alfiere poi c'hai i cavalli pronti a saltare verso la casa c4 ok i cavalli vogliono andare in c4 oppure in f8 le torri stanno bene così mi serve la torre ne8 perché eventualmente proprio in casi di estrema crisi posso fare cavallo f8 alfiere f8 re f8 mi libero un po di case per il re la donna sta bene in c7 o in b6 e la mostra chiave b5 quindi tu c'hai una casa per ogni pezzo e inoltre un piano di gioco questo è il massimo che puoi avere a scacchi perché sai dove mettere i pezzi sai che fare sì ok questo è già ottimo e così ce ne saranno tante perché man mano che giochi si produrranno sempre più spesso situazioni diciamo codificate che sono la vera teoria scacchistica perché uno pensa che la teoria negli scacchi sono quelle mossettine che uno impara all'inizio e la teoria proprio così per cominciare facile che poi a sua volta può diventare estremamente complessa e occupare migliaia e migliaia e migliaia di pagine migliaia verrebbe da dire proprio di milioni o non so quante noi la teoria scacchistica mostruosa invece la vera teoria è quella di sapere ok in un colpo d'occhio dove sono i miei pezzi quali sono no questo ci vuole molta più esperienza per farlo molta più diciamo preparazione nel gioco più che nel più che però ti faccio una domanda in questa posizione momento in cui io inizio a muovere ad esempio cominciamo non so cavallo riesco a portarlo qua in c4 e lui a quel punto avanza e lo scaccia facilmente ok ok a quel punto io posso iniziare a attaccare i pezzi che si scoprono in sostanza si il concetto quale facciamo finta che io sono il bianco qui no ti faccio vedere come ragiono io guarda col nero abbiamo ragionato giusto adesso ragioniamo col bianco come ragiono ragiono che c'ho quest'alfiere che tu non hai e non sta facendo granché bene la cosa non mi piace ragiono dicendo ok c'ho questo cavallo che deve andare necessariamente all'attacco della casa i5 perché come per te è vero che la casa c4 è una casa davamposto su colonna semi aperta cioè quando c'è una colonna semi aperta aperta soltanto per uno dei due no la casa che sta prima dell'ostacolo è la casa in cui metterò il cavallo ok prendila così non mi chiedere perché ok ok ma io qui se fossi un mago col bianco farei metterei l'alfiere in d3 e il cavallo in f3 organizziamoci per farlo imbrogliamo un pochino io col bianco farei cavallo e 2 al nero facciamo fare mosse d'attesa random qua sto facendo grandi manovere ma io col bianco utilizzo la stessa cosa cioè ho un pensiero complessivo dove mettere i pezzi ecco così voglio giocare col bianco che questa sarebbe una posizione tipica e equilibrata in questo tipo di strutture che ti capiterà anche questa molte volte ok certo e qui tu fai il tuo piano qui la rigiriamo per esempio qui che mossa fai col nero ma una spinta in e5 ci fa schifo c'ho un universo di pezzi a protezione di e5 stai facendo ti ricordi una volta ti ho detto gli alfieri e cavalli aprire e chiudere secondo te e5 che stai facendo sto aprendo stai aprendo anche tu avrai un po di gioco no che qui tocca muovere al bianco faccio finta col bianco che gioco che ne so torre a 1 qui avrai un po di gioco senz'altro però apro il gioco lui ha due alfieri giusto capito apri il gioco e lui ha due alfieri chiaro giusto ok quindi non apro il gioco in questa non immediatamente in certi casi quando per esempio gli alfieri sono messi male nuovi pezzi sono messi molto in maniera passiva a un certo punto potresti anche aprire il gioco no potrebbe non è una cosa sbagliata attenzione non è che stai proprio male male in una situazione però non è ottimale non è ottimale no ok quindi considerando che devo tenere chiuso il gioco a questo punto io faccio quello che diciamo prima inizio vado cavallo a 5 per esempio ottima mossa perché poi cerco di andare andare tipo qua ottima mossa facciamo finta che mi sposto ho visto la tua minaccia e mi sposto che fai allora tu hai detto che io devo arrivare qua il problema che vado qui poi sono sono mangiato devi accettare di essere mangiato ok perché il suo vantaggio è che c'ha due alfieri se gli ne togli uno torniamo ad avere gli stessi pezzi ok e quindi il bianco adesso non ha più quest'alfiere che tu non hai già gli abbiamo tolto una cosa che ci dava fastidio e giocheremo questa posizione e qual è il piano qui ne so io col bianco faccio torre 3 tu col nero che fai bravo 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 ma non so poi che cosa succederà da qua perché da qua non vedo come passo io in questa e come passi facilmente passi guarda io faccio questa tu che fai attacco di minoranza questi due valorosi pedoni vanno all'assalto di questi tre pedoni però li cambi ok avanzo così bravo allora io gioco cavallo e 5 perché il bianco deve fare questa mossa con le 5 e col nero non dobbiamo avere paura di questa mossa perché comunque il bianco la farà sempre ho visto come tu hai fatto cavallo c4 io ho fatto cavallo 5 strategia di gioco tipica sfruttamento della casa davanti posto qui che fai beh allora non posso lasciarlo tranquillo perché a impresa se quindi c'è qualcosa devo fare devo mangiarlo bravo necessariamente per forza bravo non bisogna avere paura dei cambi monti assolutamente ok però a questo punto mi ritrovo un po' così adesso vedrai i vantaggi di aver giocato torre 8 che fai che il bianco ti vuole attaccare g7 attenzione bianco vuole attaccare g7 dunque o provo a cambiare i due alfieri ipotesi 1 sì ma non mi piace posso attaccare la sua torre qui ecco provo a attaccare la torre vediamo che succede adesso io vengo qui don't like that questo non ti piace no alfiero f6 voglio farti voglio fare alfiero f6 chiaro e donna h6 è matto cosa che mi capita spesso ok dove vai con l'alfiero bravissimo ah io continuo a attaccarti adesso che fai coerenza eh scacchi bisogna essere coerenti dunque tu hai detto di fare l'attacco di minoranza l'hai detto tu giusto e quindi io faccio b4 bravissimo ok mangio e ti faccio alfiero f6 perché voglio darti matto ok però io ho il mio alfieruccio qua attenzione adesso sto minacciando alfiero per g7 bravo bravissimo e qui l'aver creato questo diversivo ti salverà la pelle per esempio torre g4 che mossa fai qui addirittura va in vantaggio il nero ma potrei giocare con follia totale certo e il nero va in vantaggio torre g4 è stata sbagliata ok il bianco non lo so cosa deve fare probabilmente deve spostare la donna portarla in attacco da qualche parte ma tu mangerai in c3 e avrai aperto diciamo un fronte che ti garantisce tanto gioco sufficiente a compensare è chiaro che il nero ha una cioè il bianco ha una posizione spaventosa no? con l'alfierino f6 purtroppo è fortissimo forse non dobbiamo fare g6 forse su l'alfierino f6 posso fare rea ah no 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 stavo per dire una grande fesseria volevo fare rea h8 la quale perderebbe a causa di donna h6 forse in realtà ti posso fare g per f6 ah donna per f6 matto giusto 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 bravo notti bravo donna h6 g per f6 vai fai matto è sempre bello fare matto giusto ok è chiaro sono posizioni nelle quali bisogna anche giocare no? mosse difensive forti ma comunque la carocan è così eh la carocan è rocciosa e qui diciamo alla fine della fiera questo fortissimo alfiere verrà compensato dalla debolezza negli altri settori della scacchiera il bianco se ne deve andare probabilmente mangiamo qui abbiamo un obiettivo d'attacco abbiamo delle torri attive e tutto sommato non è che stiamo prendendo matto facilmente non c'è ancora tanto da giocare c'è tanta c'è una tante possibilità di attivare i nostri pezzi addirittura se si cambiassero le donne in qualsiasi modo e per qualsiasi motivo il dinero starebbe meglio ma in questo caso diciamo la mia strategia è raddoppiare le torri su questa colonna qua per cercare di no io io credo che comunque lui ha io qui devo impegnare i pezzi bianchi a difendersi perché se no il bianco con l'aiuto di quest'alfiere ti dà matto probabilmente io giocherei torre a 8 con l'idea di entrare anche in a 2 voglio creare quanti più diversivi possibili perché è troppo pericoloso quest'alfiere qui sto prendendo matto proprio in pochissimo tempo se non mi do da fare la situazione è molto pericosa può essere che comunque sia vantaggiosa per il bianco questa attenzione non so donna b3 donna c6 che il bianco qui ha un piano molto semplice porta i pezzi sulla colonna h e mi dà matto chiaro ovviamente mi devo difendere attaccando tutto quello che posso attaccare qui per esempio su torre h4 faccio donna per c3 però vuol dire torre per h7 non dovrebbe funzionare perché posso giocare probabilmente scacco e mi sono mangiato due torri no? e non puoi fare alfiere g5 perché ti faccio donna per i5 scacco e su f4 mi difendo sono cose acrobatiche ma è il tipo di posizione che è così però io mi trovo spesso in queste posizioni qua e lo so secondo te è una cazzata che gioco la carocan dovrei provare a giocare altre cioè aprire in un altro modo vuoi che ti anticipi i miei piani oppure no? no sorpresa no? sorpresa perché mi sento sempre così stritolato ecco la mia sensazione sono completamente tu sei un giocatore che privilegia l'iniziativa a cui piace avere l'iniziativa e col nero sono lì chiuso la carocan in tante continuazioni è invece molto tecnica è rocciosa tu stai lì bello piantato e ti devi sentire di giocare la carocan deve essere no? tu l'hai scelta perché in alcune linee ti piace però la natura della carocan l'ho scelta a caso ecco ne ho preso avuna non ho avuto un pensiero scientifico l'hai scelta proprio a caso no diciamo che uno dei miei compiti è quello di il compito del coach è quello di capire cosa massimizza la forza del suo allievo ok? non voglio ancora darti giudizi per non influenzarti però ovviamente quello che giochi sarà funzionale a quello che secondo me è il tuo stile di gioco e a un certo punto ti darò già il gambetto che ti ho dato è un momento di passaggio non pensare che giocherai per chissà quanto tempo sto gambetto eccetera capisci anche tu che ti metti in difficoltà che è qualcosa che ti fa che è pericoloso ma dobbiamo hai bisogno di un certo tipo di posizioni alle quali ti porterò ciao pierre è stato come al solito molto interessante vado a fare qualche altro esercizio e poi gioco qualche partitella sono sempre contento a fare le mie partitine è bello è bello giocare a scacchi è bello per carità quando posso giocare sono sempre contento poi sono molto triste quando perdo e molto felice quando vinco passo sempre in questi due umori che ormai è facile dall'esterno puoi capire se ho vinto o perso a scacchi quel giorno lo vedi subito ma tu stesso ti rendi conto quando sei molto concentrato e giochi bene quando invece le butti un po' no? a cazzo o sull'automatismo o sul fatto che sei arrabbiato perché hai perso punti e vuoi recuperare punti eccetera ok? pensa a quando giochi bene e prova a giocare quante più partite possibile così cerca di guardarti ricordati quando giochi bene perché comunque puoi giocare tutte le partite così e anche meglio ok? lo farò coach ci aggiorniamo la prossima settimana un abbraccio e un saluto a tutti ciao ciao Monti